PULLA PULLA Di chi stende il papiro come uno scriva PULLA PULLA Interessante Il messaggio che hai appena trovato sembra essere una sorta di indizio Lo decifrerò qui nel rifugio Nel frattempo, vedi se riesci a trovare altri indizi Più ne avrò, più facile sarà decifrare il codice Ok, fija nota Passando per le cose di Paisi PULLA PULLA Di chi stende il papiro come uno scriva PULLA Interessante Il messaggio che hai appena trovato sembra essere una sorta di indizio Lo decifrerò qui nel rifugio Nel frattempo, vedi se riesci a trovare altri indizi Più ne avrò, più facile sarà decifrare il codice Ok, fija nota Passando per le cose di Paisi PULLA PULLA Di chi stende il papiro come uno scriva Più ne avrò, più facile sarà decifrare il codice Ok, fija nota Passando per le cose di Paisi PULLA PULLA Di chi stende il papiro come uno scriva Più ne avrò, più facile sarà decifrare il codice Ok, fija nota Passando per le cose di Paisi Ma che cazzo sta succedendo Mi arrivato che sto video messaggio firmato Mickey Mix Passando per le cose di Paisi